Vabbè, boi, sono un singolo. Mi ha incuriosito questa cosa di parco. Allora! Dovalliamo! No, non! No, non! Allora, andiamo! grazie a tutti poi dove andiamo? andiamo pinnacoli ok andiamo a spennare con i fomenti andiamo a che subo ora e anche andiamo a che subo ora sia andiamo a che subo ora andiamo a che subo ora sai vabbè al bolo dai bomba contra assalto sarà treas scusate damo un altro damo 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 il Lama io il Lama boy il Lama GD 龊 Popsa! Popsa una arma! Illuminati! In una blanda? Capitola dai. E nabas? Apennaguli Ok, na vol, weh Come si è formato? la luna coming boys! comeeeeng! comeeeen! 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 comunque ragazzi che hanno intensabilità 8 8 51 51 è buonissima, stai insubiltà vabbè non ti ne metto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.